perfetto, vai bene ok perfetta vai, bravo ok e uno uno vai unlock your full potential a crack addicts oggi siamo in compagnia di Selene e faremo un trattamento osteopatico girati verso la finestra sei pronta? pronta brava, non è vero, è una bugia ma noi diciamo che siamo pronti allora tu non hai fastidio giusto? no facciamo un bel check generale giusto per capire se hai qualcosina a eliminare fai sport? diciamo che un pochino che sono ferma ho sempre fatto tanto sport sì, ovviamente tanta palestra ok, prima? a dimostrare davvero? sì che cosa? che ammaga ma non ci credo che federazione? KMA? no no oddio ce ne sono un po' eh in effetti sì cavolo non mi ricordo però è se mi avrei sottolato dove mi allenavo io perché hai smesso? no eh, ma oggi fa comodo sapersi difendere seduta allora, senti un po', gira il collo a destra dimmi cosa vedi di me mano-gomito, mano-gomito-spalla mano-gomito-spalla-viso mano-gomito-spalla-poco-viso ok, gira a sinistra ti sposto i capelli stessa domanda mano-gomito-spalla ok, mezzo-viso non lo vedi, giusto? ok, dobbiamo guadagnare un po' di rotazione allora tu lavori, fai un lavoro sedentario fai una cosa davanti al pc o sei in movimento, fai un lavoro dinamico? sempre in movimento e tanto ci dà altri ok allora, fai una cosa ti faccio un po' di test di forza vediamo se riesci a resistere alla spinta che ti faccio quando il muscolo cede c'è qualcosa che non va e dobbiamo capire da dove arriva il perché ok allora, braccio dritto spingi verso il muro mantenendolo dritto senza piegarlo vai direi buono spingi verso questa parte qua buono fino alla promossa vediamo se vai avanti così spingi di là bene spingi di qua bene spingi di qua ma luccio e questo capiamo perché allora spingi in questa direzione qua vai buono spingi perfetta dritta e spingi in questa direzione qua stop perfetto perfetto piega spingi col ginocchio verso l'alto stop spingi e questo non tiene proviamo di nuovo spingi no inspira trattieni l'aria spingi meglio una dieci dai un bel sette si può migliorare si può migliorare brava allora torna seduta un secondo se ti schiaccio in giù la testa dimmi se hai dolori leggermente dimmi dove al centro ok se sposto in questa posizione ti rischiaccio è uguale al dolore o diminuisce uguale ok se invece lo faccio in questa direzione è uguale o diminuisce spingi verso l'alto spingi verso l'alto spingi verso l'alto spingi verso l'alto ok torna pancia sopra allora un bel espirone fuori un bel espirone fuori un bel espirone brava prendiamo il collo e poi si parte con lo sblocco tanto temuto allora se schiaccio questo punto qua ti faccio male? no qui? no se schiaccio in giù? no se schiaccio in giù? no benissimo allora se sei pronta zan zan se no sospendiamo il video aspettiamo una decina di minuti e facciamo ripartire no scherzo non si può fare questa cosa allora sentirei il rumore prometto che non sentirai nessun dolore ok mi cito ok allora stai bene la molle brava morbida morbida ma sei stata brava adesso è la prima volta stava per partire un pugno secondo me però mi sei trattenuta dopo mi sei trattenuta esatto ma che ce n'è un altro qui quindi molle ok ok ti ho passi dei piedi ok chiaro seduta gambe dritte vieni più vicino a me ok mani interessate così dietro questo punto brava chiudi i gomiti piegati in avanti un po' stop ora ti appoggi a me come se fosse un divano stai bella molle guido io brava lasciate cadere indietro mi fai un bel respirone e fuori l'aria questa è buona è buona è buona libera torna al centro così gomito gomito mi fai un bel respirone fuori l'aria questo è buono fianco destro non fa la stessa cosa ok vieni un pelo più vicina stop uno due gomito gomito testa così stavolta mi pieghi questa mi stai bella morbida mi fai un bel respirone e fuori l'aria non è questa direi che insomma ok ora piega questo spingi sempre verso l'alto buono piega questo spingi sempre verso l'alto e di non c'è di più molto bene puoi tornare a tirare ginocchiate per le forti fuori l'aria un respirone fuori l'aria un respirone fuori l'aria un respirone fuori l'aria male eh stretching mai poco eh molto poco tiro vai in palestra mi hai detto adesso giusto sei un po' di palestra quante volte vai sono fermato a tiro si però hai salito vabbè due volte a settimana ok ma fai direttamente allenamento non fai allungamenti prima dopo ok mano sui fianchi quando te lo dico io mi dai una bella gomitata all'indietro un colpo secco ok pronta è già andata vai eh era già andata prima pronta vai perfetto giù ok ora gira a sinistra il collo aspetta che ti dimmi cosa vedi di me eh mano gomito spalla un po' di inizio perfetto abbiamo recuperato un po' di rotazione allora quanto durerà il beneficio di questa cosa dipenderà da quanto allenti anche un pochettino la muscolatura nel senso che tu qua sei molto tesa quindi un massaggio ti farebbe bene eh se si riesce a fare ti durerà molto altrimenti la prima volta che vai in palestra ti dedichi un po' di stretching tieni 90 secondi di allungamento di qui 90 di qua 90 di qui 90 di qua così allenti un po' la muscolatura i 90 secondi sono importanti ok allora mi fai una camminata avanti e indietro per due volte che guardo un attimino se ti muovi bene vai hai fastidi tensioni dolori no ok fanne un'altra seduta direi che ci siamo braccia dritte spingi su spingi su molto meglio ok quindi l'unico consiglio è quello poi ti farei fare un bel massaggino e basta magari tra due mesetti tre mesetti ti rivedo facciamo un controllo va bene vediamo un po' allora fammi un bel respirone fuori un bel respirone fuori l'ultimo fuori ok vai giù toccati la punta dei piedi torna su ancora torna su fastidi in questa zona non ce l'hai? ok braccia dritte spingi verso l'alto spingi verso il basso spingi verso il fuori spingi verso il dentro ok mano incrociata sulle spalle spingi in alto la coscia anche questa ora in fuori la gamba e anche questa ok forza buona brava giù le braccia gira il collo a destra dimmi cosa vedi di me aspetta che ti sposto gli occhi i capelli mano mano gomito mano gomito spalla ok gira a sinistra dimmi cosa vedi di qui mano gomito anche qua non vedi la spalla questo va corretto un pochettino respira fuori anche qua bel respirone fuori un bel respirone fuori un bel respirone e fuori ecco cosina c'è da liberare qui piega il collo in avanti e vai giù bravo giù 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 torna su giù 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 torna su ok ok Grazie. Se ti faccio male dimmelo. Grazie. Molte, molte, brava. Giù. Fuori. Morbida, morbida, brava. Inspira. Fuori l'aria. Inspira. Fuori l'aria. Benissimo. Molle, molle, piega. Buongiorno. Su. Giù. Vai così. Ti fa male? No. Così. Ti fa male? No. Ok. Allora, cominciamo a liberare un po' di cosette. Sentirei un po' di rumori, come ti spiegavo prima. Non fa assolutamente male. È importante che sei bella rilassata e bella morbida. Allora, vieni un po' più su, verso di me. Perfetto. Perfetto. Sui capelli, che sennò ti ritiro tutti giù. Pronta? Sì. Vado, eh? Uno. E due. Vieni un po' più vicina. Così, vieni qua, qua, qua. Perfetto. Braccio, braccio. Spalla, spalla. Inspira. Fuori l'aria. Ok. Poi. Gira sul fianco, verso il muro di là. Vieni più vicina, verso il bordo del lettino. Vieni, 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 stop. Un braccio lo metti qui. Gamba piegata. Ora ti sentirei cadere, ma non cadi. Quindi stai bella molla e ti tengo io. Gomito, gomito. Inspira. Fuori l'aria. E uno. Fianco di qui. Uno. Due. Tre. E quattro. Inspira. Fuori. Fuori bene. Fuori, 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 fuori. Perfetta. Ora sempre braccio a lungo i fianchi. sui fianchi. seduta gambe di là ok, mano sui fianchi in questa altezza qui pollice dietro, dita avanti contrario, 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 così, bravissima ok, quando te lo dico io mi dai una gomitata lì indietro un colpo secco vai, bene vai ancora ok, giù gira a sinistra al collo, cosa vedi di me? gira, gira, gira mano con il tuo spazio benissimo molto bene, gira a destra mano con il tuo spazio perfetto ok allora, monitoriamo la forza quindi, braccia dritte spingi verso l'alto verso il basso verso il fuori verso il dentro vanno come prima sulle spalle spingi verso l'alto la coscia questa in fuori la gamba e in fuori la gamba molto bene allora domani potresti avere un po' di fastidio dal trattamento è una cosa normale un po' va a scemare e ti ho tolto tutto quello che c'è da togliere quindi poi vedrai che il corpo ti funziona molto molto meglio magari anche dopo domani un po' di fastidio dovrai molto bene fai un bel spirone bravo un'altra dolori non ne hai no tensioni lombari niente no dormi bene dormi male si abbastanza ti svegli un po' cacciacco poi ti passa subito o niente no perfetto male qui no qui allora ti faccio mettere in piedi piegamenti in avanti come puoi andare a prenderti la punta dei piedi bravo giù su 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 con le gambe dritte giù esatto così vai torna su ancora su oltre palestra mi hai detto correvo adesso corri molto meno corri molto meno va bene mettiti seduto come eri prima braccia dritte spingi in alto spingi in basso spingi in fuori spingi in dentro buono fai corpo libero fai pesistica faccio pesi poi ho qualche esercizio anche di corpo libero faccio i pesi va bene stretching ne fai? ehm sì sì a fine allenamento a fine allenamento sì inizio no? no di solito faccio riscaldamento sto più in una consigletta ok perfetto ruota con la sinistra bravo come puoi guardare a sinistra così? bravo ruota a destra di nuovo a sinistra ok guarda verso l'alto vai in giù col mento ok ok inspira fuori inspira fuori battiti quando t'alleni li misuri mai? allora sì quanto sei? diciamo che faccio fatica a raggiungere i 180 ok e a riposo infatti ne ho 47 urca sì ok ti sei sempre allenato? sì anche da fin da piccolino? sì 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 piega la gamba morbido spingo io qua è dolore? no ok piega la gamba da qua morbido spingo io questo è peggio però come morbidità hai problemi nel ginocchio? ho sempre avuto negli anni in cui facevo l'arbitro ho sempre avuto come le agioni sinistra sì ok quindi un problema muscolare praticamente ok adesso lo liberiamo allora vieni a pancia in su fuori coli non ne hai mai né piedi né mani le dita di notte ti svegli col suono con il mio ambiente ok ha solo la chitarra anche grande sì assolutamente non è fine il trattamento mi interessa la chitarra anche io sono un musicista non ne sai sono un pianoforte ah genere? eh adesso stiamo mettendo su una band per fare le porno riviste ah ok tutti di mozzate eh no no anzi tutta la gente uno di Cassano e gli altri mozzassi e tutti in giro come è giusto che sia le band raccolte nei giorni di mozzare parola chiave di oggi band ruota di qui dolore no ruota di qui dolore no va bene allora se sei pronto cominciamo a regalare qualcosina ti faccio queste manovre sono indolori non senti niente sentirai il rumore non ti spaventare allora vieni leggermente più su morbido perfetto dolore no bene questione di meccanica quando sei iponobre ti muovi poco le strutture rallentano il movimento e questi blocchi più di questo non hai vieni un po' più vicino perfetto giugallo sdragliato braccio a me braccio a me spalla spalla gomito allineati inespira giù la testa e fuori l'aria ammazza sentite dentro fuori ok ok fianco sinistro gira di qui gira proprio su fianco ok bravo vieni vicino finito finito poi non cadi finito bravo così allora un braccio dietro giù la testa ti sentirei cadere ma non cadi stai bello molle inespira fuori benissimo fianco di qui stesso movimento vieni più vicino non posso vedere ok uno due giugali nella testa inespira fuori perfetto non te l'aspettavi di scricchierare così e io lo faccio con le mani ormai è un tic che ho sì non so se va fatto eh qua ci sono pareri molto discordanti esatto e ti dico farlo tranquillamente però farlo così in apertura non farlo così ah ok in realtà non succede perso che niente ok se lo fai in apertura quindi allunghi il dito è meno stressante per la capsula che si è all'interno ok mangi bene mangi male no cerco di stare attento se lo intendi mangi male fast food raramente ok vomito anche qui sta per rilassato faccio tutto io inespira fuori d'aria vieni leggermente più qua perfetto morbido inaspira fuori seduto gambe d'aria gira ancora a sinistra gira a destra ok guarda in alto in giù fammi una camminata una passata davanti e indietro poi ti rimetti seduto a tutti guardo vai torno indietro perfetto seduto mi rifai un bel respirone bocca aperta un altro e l'ultimo bene molto bene oggi ti devi allenare no ottimo perché oggi non dovresti allenarti quindi fantastico oggi domani anche domani in realtà se non daremi meglio e basta ho avuto questi piccoli blocchi ma devo dire che mi hai abbastanza sorpreso proprio magari lo ripetiamo tra un tre mesetti vediamo come stai va bene mano sul fianco bravo pollice indietro così quando te lo dico io mi dà una bella comitata all'indietro un colpo secco pronto? vai bravo pronto? vai perfetto ragazzo giù giro a destra al collo sinistra destra sinistra